Capitolo 33 Jeremiah mi disse che potevo andare a trovarlo mentre era di turno in piscina. Non ero mai stata nella piscina del Country Club. Era enorme e da fighetti, perciò colsi al volo quell'opportunità. Il Country Club mi pareva un posto misterioso. L'estate precedente Conrad non ci aveva lasciati andare. Disse che sarebbe stato imbarazzante. A metà pomeriggio lo raggiunsi in bicicletta. Là tutto era verde e lussureggiante. La piscina era circondata da un campo da golf. A un tavolo c'era una ragazza con una cartelletta. Io andai da lei, le dissi che ero venuta per Jeremiah e lei mi fece cenno di entrare. Scorsi Jeremiah prima che lui mi vedesse. Era seduto sulla sedia da bagnino, intento a parlare con una ragazza mora in bichini bianco. Rideva e anche lei. Sembrava così importante su quella sedia. Non lo avevo mai visto al lavoro prima di allora. D'un tratto mi sentì in imbarazzo. Mi avvicinai pian piano sbattendole infradito sul pavimento. «Ehi!» dissi quando fui a pochi passi di distanza. Jeremiah abbassò lo sguardo dall'alto della sedia e mi sorrise. «Sei venuta!» disse strizzando gli occhi e schermandoseli con le mani. «Eh sì!» Feci oscillare la mia borsa di tela avanti e indietro come un pendolo. Aveva stampato sopra il mio nome in corsivo. Era della LL Bean, un regalo di Susanna. «Belli, questa è Ioli. È la mia cobagnina!» La ragazza allungò il brazzo e mi strinse la mano. Mi colpì tutta quella professionalità per una vestita in bichini. Aveva una stretta salda gradevole che mia madre avrebbe apprezzato. «Ciao, Belli!» mi disse. «Ho sentito molto parlare di te». «Davvero?» Sollevai lo sguardo verso Jeremiah. Lui fece un sorrisetto compiaciuto. «Sì, le ho raccontato che russi così forte che ti sento da camera mia!» Gli «È un piacere conoscerti!» Lei mi sorrise. Aveva le fossette su entrambe le guance e un dente inferiore storto. «Anche per me, Jeremiah, vuoi prenderti subito la tua pausa?» «Tra pochino!» rispose lui. «Belli, va a carbonizzarti come tuo solito!» Io gli feci la linguaccia e stesi il mio asciugamano su un lettino non troppo distante da là. La piscina era di un turchese impeccabile e c'erano due trampolini, uno alto e uno basso. C'erano un sacco di bambini a sguazzare e decisi che sarei andata anch'io a nuotare quando non avessi più sopportato il caldo. Mi sdraiai con gli occhiali da sole e gli occhi chiusi ad abbronzarmi e ascoltare la musica. Jeremiah mi raggiunse dopo un po'. Si sedette sul bordo del lettino e beve dal mio termos di aranciata. «È carina?» dissi io. «Chi? Ioli?» Si strinse nelle spalle. «Sì, è carina! Una delle mie tanti ammiratrici!» «Sì, come no!» «Beh, vogliamo parlare di te, del tuo Cam Cameron, Cam il vegetariano, Cam lo straight edge!» Trattenì un sorriso. «Beh, che c'è? A me piace! È un cretino! È questo ciò che mi piace di lui, Cam è diverso!» Jeremiah aggrottò leggermente le sopracciglia. «Diverso da chi? Non lo so! Invece lo sapevo, sapevo esattamente da chi era diverso!» «Intendi dire che non è un cazzone come Conrad?» risi e anche lui. «Sì, esatto! Cam è carino!» «Carino e basta?» «Più che carino!» «Dunque ti è passata? Sul serio?» «Sapevamo entrambi a cosa si riferiva!» «Sì!» risposi. «Non ti credo!» replicò lui, osservandomi con attenzione come quando cercava di capire che carte avessi durante le partite a uno. Mi tolsi gli occhiali e lo guardai dritto negli occhi. «È la verità! Mi è passata!» «Vedremo!» disse Jeremiah alzandosi in piedi. «La mia pausa è finita. Stai bene qua? Resta in giro e ti riporterò io a casa. Posso mettere la bici nel bagagliaio?» Annui e lo osservai tornare alla sedia da bagnino. Jeremiah era un buon amico. Era sempre stato buono con me. Sempre premuroso.